Volevo leggere un commento che mi ha lasciato una signora, va sotto un video in cui parlo dei cani e mi scrive E i cani da salvataggio? Che è proprio una situazione tipo, una vergogna Ti auguro, e già quando iniziano così le persone che vogliono dimostrare di essere migliori di te, minimo ti augurano la morte Ti auguro di non aver mai bisogno di un cane Ma che c***o dici? Cioè, pensate a voi, non siete in pericolo, state annegando e il pensiero è vincita, ci vorrebbe un cane Ti auguro di averne bisogno, e che non ci sia Perché a te il cane ti rompe Immaginatevi ancora la scena di Megan Nego E imploro il buon Dio di far arrivare un cane da salvataggio Il cane arriva a nuoto, mi vede e fa, eh no, sei rucca Visto che ci sono padroni di cani anche con i cani Siete la categoria peggiore del mondo, c***o I padroni dei cani, c***o, non capiscono un c***o Mi scrivete sempre, perché odio i cani? Tu li vuoi bene al cane? E lo porti al doppio malto Pensa quanto è felice il cane Oh c***o che bello, sono rimasto sei ore sotto una sedia Lui sì che mi ama Grazie a tutti